Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926 Signori, possiamo dirlo tranquillamente? Ultima fermata, ultima stazione Se ci dovesse essere una sconfitta o un pareggio non ci sarà nessun giro omaggio da parte dei giocatori del Napoli e per Luciano Spalletti aggiungerei io perché va bene difendere l'allenatore perché naturalmente secondo me al primo anno non si poteva chiedere più di quello che sta facendo ovvero entrare in Champions League però inizia a capire che se pareggio perdi contro l'Empoli che proprio l'ultima vittoria l'ha fatta contro il Napoli la coperta inizia un po' a tirare detto questo ragazzi probabili formazioni di Empoli-Napoli tralasciando il fatto che l'Obotica si è fermato e il Massoggi si è fermato un problemino al polpaccio Coulibaly infortunato scusatemi Coulibaly che assende per la munizione rimediata contro la Roma quindi il Napoli è un po' alle strette con i giocatori Espina non si sa se recupera entro domenica uguale di Lorenzo di Lorenzo che ha svolto metà parte di allenamento in palestra ma poi con il gruppo quindi questo mi fa ben sperare per riaverlo a disposizione già dalla prossima contro il Sassuolo ragazzi perché la prossima in casa secondo me sarà fondamentale proprio per vedere questo Napoli cosa vuole fare e dove vuole arrivare perché ragazzi qualora dovesse perdere contro l'Empoli e pareggiare nuovamente in casa con il Sassuolo ragazzi io vedo Baracchi e Burattini vado a Napoli vado a Castelvortuno e li vado a sputare in faccia uno a uno detto questo perché poi vedete ho fatto uscire due video inerenti proprio alla questione Napoli Luciano Spalletti di qualità come vedete sta uscendo un video al giorno prima ne facevo uscire due tre ora vediamo stasera perché poi c'è la Formula 1 c'è la qualifica oggi alle ore 15 poi alle ore alle ore 18 finisce la qualifica però io per le 18 sono al lavoro ora vediamo un pochino come organizzare la questione detto questo ragazzi andiamo a vedere una probabile formazione perché ragazzi i titolari sono questi sono tanti infortunati tanti assenze pesanti ragazzi quindi contro l'Empoli sarà una partita attiratissima secondo me detto questo Meretti in porta lo sappiamo perché Ospina non dovrebbe recuperare per domenica poi salvo poi un recupero lampo delle ultime ore però ragazzi penso vada in panchina e non importa quindi Meretti in porta ragazzi poi difesa a 4 con Zanoli Juan Jesus e uno dice ma come c'è Juan Jesus non era infortunato ragazzi Juan Jesus dovrebbe recuperare dico dovrebbe perché non è proprio sicuro però ci dovrebbe essere al 70% 70-80% nella difesa a 4 Juan Jesus poi Rachmani a fianco di Juan Jesus ragazzi questa coppia centrale ha fatto benissimo anche in assenza di Calidou Koulibaly anzi possiamo dirlo tranquillamente da quando è ritornato Calidou Koulibaly dalla Coppa d'Africa il Napoli è andato un po' maluccio lì dietro diciamoci la verità su quell'altra fascia ragazzi c'è l'eterno Mario Rui ragazzi ho visto alcuni video sui social alcuni chiedevano Mario ma quando segni quando non segni ragazzi c'è tanto affetto nei confronti di Mario Rui lo devo dire tranquillamente è stato rivalutato finalmente questo giocatore io l'ho sempre detto chi suda la maglia ragazzi merita e merita di essere supportato da parte della tifoseria mediana 3 ragazzi qui cambia perché naturalmente se non c'è Lobotka è normale devi cambiare qualcosina non c'è nemmeno Elmas con Fabian Ruiz Anghissà e Diego Demme ragazzi Demme che dovrebbe scusate una botta al microfono Demme che dovrebbe prendere proprio il posto di Lobotka Luciano Spalletti ora ha intenzione di andare avanti con questo 4-3-3 io non so fino a dove voglia arrivare però staremo a vedere oppure potrebbe potrebbe anche puntare su un 4-2-3-1 con Anghissà e Fabian con Mertens dietro la punta però sai non escludo questa opzione ma nemmeno la vedo verità questa opzione ragazzi perché Luciano Spalletti io non so come mai lo sappiamo i giocatori che sono amanti nelle piazze dove giocano non è che lui vuole essere una prima donna diciamo così dai per non creare troppo clamore intorno a queste scelte di Luciano Spalletti che vuoi o non vuoi ragazzi io questa qui non la condivido ragazzi perché Mertens dovrebbe giocare da titolare dal primo minuto e merita di giocare da titolare anche al posto di Politano e proprio di Lozano ragazzi due giocatori che sono proprio in fase pessima in questo momento di stagione però staremo a vedere ragazzi quindi Fabiana e Diego Demme poi lì davanti ragazzi il tridente con io ho messo Lozano perché abbiamo visto oramai lo sta facendo partire sempre titolare quindi io penso lo metta al posto di Politano poi questo è un 50 e 50 ragazzi queste sono scelte che farà negli ultimi 10 minuti di riscaldamento dei giocatori poi Osimè lì davanti e ragazzi Lorenzo insignia su quell'altra fascia il capitano allora questa è la probabile formazione ragazzi ora se noi andiamo a vedere un po' i giocatori che ci mancano perché ci manca Lobotka Helmas che dovrebbe partire forse forse per la Toscana ci manca Kulibali per squalifica ragazzi e siamo un po' messi in crisi ah come avete visto anche questa volta Zenischi è fuori dalla formazione titolare ragazzi non ne sento parlare molto molto di Zenischi e mi sembra strano perché ragazzi è tante partite ora che non parte di titolare Zenischi che era uno dei gioielli del Napoli di Maurizio Sarri del Napoli di Gattuso del Napoli di Ancelotti ragazzi questo giocatore si sta perdendo per via noi siamo lì come dire a dire sempre ora esplode ora esplode ora esplode ragazzi ma Zenischi sono anni che deve esplodere e non è ancora esploso e questa è una cosa che a me dispiace veramente veramente tanto ragazzi non so come mai questo giocatore quando deve fare salto di qualità quando deve vedere che deve fare la differenza nelle partite che contano stessa cosa vale per Ozyman ragazzi perché Ozyman non ha ancora segnato ad una big ed è clamorosa la cosa ragazzi quindi occhio a parlare anche di quell'altro perché pure Ozyman non è che che sia tutto questo grande spettacolo che stia facendo vedere ragazzi lì davanti comunque detto questo Zenischi dovrebbe partire dalla panchina Ozyman titolare come detto però io caro Luciano io io opterei per questo 4-2-3-1 con Mertens dietro la punta poi tu sai tu vedi tu sai cosa devi fare lo sappiamo loro vedono cose che noi non possiamo vedere naturalmente perché alle lamenti non ci puoi andare a vederli però il popolo il popolo napoletano grida per Mertens titolare ragazzi e Luciano Spalletti penso debba prendere in considerazione anche le voci del popolo napoletano perché ragazzi se è quello che è vero che Mertens dovrebbe rinnovare a 1,5 2 milioni a stagione un po' di rispetto per questo giocatore caro Luciano ce lo dovresti avere non è come qualcun altro che poi a fine partita piange ragazzi piangere a fine partita non a sé impegnatevi quando dovete lottare veramente ragazzi no a fine partita che non conta più niente fai il giro di campo piangi ti sbatto ma che piangi a fare ma che piangi a fare io l'ho sempre ritenuto lacrime di coccodrillo anche quando sbagliano i rigori piangono ma che cazzo piangi che cazzo piangi cioè io vabbè detto questo ragazzi io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 perché dobbiamo arrivare 3.000 iscritti ragazzi ora domani ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti penso farli intorno alle ore 2-2.30 ora non lo so di preciso sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 vediamo se ci riusciamo a sentire per il post qualifiche perché ragazzi oggi ci sono le qualifiche della Formula 1 domani c'è la sprint qualifying chi non lo sa è una mini gara come viene a finire questa mini gara partiranno in griglia di partenza Ferrari volano sul bagnato e sia sull'asciutto ragazzi quindi staremo a vedere sarà nuovamente doppietta Ferrari vedremo dopo oio che dire le formazioni le abbiamo dette un piccolo ripasso di quello che è successo in questa stagione e niente oio questo è vi dovete solo iscrivervi al canale sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 ciao a you